ciao a tutti e ben ritrovati oggi mi trovo a ferrara sono qui di strada per faenza dove questo weekend si terrà il torneo nazionale di scherma e ho deciso di fermarmi a visitare ferrara in realtà ci sono già stato una volta dieci o undici anni fa quindi vediamo se è cambiata non serve perderci ulteriormente in chiacchiere quindi mollo la macchina e ci vediamo in centro grazie a tutti 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 grazie a tutti